Buongiorno a tutti e buona epifania. Sì, raga, d'orgio, d'orgio. E io, mentre sono venuta di qua e ho detto, vabbè, la clip la faccio dove sta l'albero, io mi sono resa conto di una cosa. È arrivata la epifana! Raga, è arrivata la epifana! Quindi la clip è un attimo diversa. Madonna mia, io amo questa calda. È bellissima. Guardate. Cioè, guardate qua. Avevamo pure un altro con il topino che cantava. No, vabbè. Vediamo. Allora, caramelline, ancora, scusate, ma io sono ancora un po' rovinata. Un Kinder Cereali. Degli Smarties. Un Chupa Chups a fragola. Sì, io proprio, guardate le mie condizioni. Una bustina di Fonsis. Ah, dei baiocchi. Dobbiamo dire alla epifana che nel 2023, no, nel 2022 già, no, nel 2023 sono usciti. Sono usciti i baiocchi al pistacchio. Dobbiamo farla un po' aggiornare questa epifana, eh? Un po' vecchietta. Ah, giustamente, non possono mai mancare le flebbo, mai, mai, mai. Ovviamente io so il senso di questa calza. Non ve la faccio vedere. Vi ricordo quando ero piccola, ovviamente. La befana cosa combinava? Una calza piena di cioccolata, che pensate che il primo pensiero mio, ovviamente, era andare sotto l'albero, quella volta stava ai piedi del letto, e venire di qua a svuotare tutta la calza, perché era piena di Kinder Bueno, Mars, Lion, di tutto e di più, e mangiarmi qualcosa della calza. Quindi è sempre stata questa la tradizione. Ovviamente siamo cresciute, io un periodo di tempo la cioccolata non l'ho più mangiata. Però comunque abbiamo, la tradizione è rimasta di una calza semplice, ma per il regalo, perché dovete sapere che quando eravamo piccoline è sempre arrivato il regalo solo alla befana. Oppure a Babbo Natale arrivava giusto qualcosa così. Però io ricordo di più che Doni ce le portava alla befana, invece che Babbo Natale. Comunque, ci sta una barretta Kinder Maxi e un lecca-lecca. Comunque, io troppo felice, quindi befana, che già so che starai guardando questo video, grazie mille. Infatti, vi devo dire che la mia bambina, non vedendo la calza stamattina ai piedi del letto, ci sono un po' rimasta, devo dire. Mi ho fatto, vabbè, non fa niente, siamo cresciute. Sono venuta di qua, ma neanche me ne ero accorta. È perché stavo facendo il blocco, ho detto, no, ma non lo so, la posizione non mi piace, sono oscura. Abbasso lo sguardo e le vedo là. Ottimo. Mettiamola di nuovo sotto l'albero. Tutto ciò, io cosa vi stavo dicendo? Vi stavo dicendo che stamattina ho messo la sveglia alle 8.40. La sveglia è suonata, io l'ho spenta, l'ho spenta, l'ho spenta. E mi sono sveglia alle 9.30, ho detto, Antonella sono le 9.30. E niente, vabbè, io già sono pronta, devo accedere il mio outfit, perché andiamo a fare una giornata al centro commerciale. Andiamo a fare pure colazione là, prango lì. E abbiamo un po' di buoni da spendere, quindi vi porto con noi. Oggi è il quarto giorno, ho il terzo di tachipirina. Però fondamentalmente non è che tu dici, sei raffreddata, hai il raffreddore a morire, hai la tosse a morire. No, è solo come se mi sentissi otturata con la voce, ma non ho niente. No, comunque, da quando è successo tutto quello che è successo, periodo di pandemia, eccetera, l'influenza non è più una semplice influenza, cioè stai davvero male. Prima invece con la tachipirina ti passava subito, era diversa l'influenza di prima. Questa invece è micidiale. Non so se la pensate come me, ma per me è così. Andiamo a posare. Eccomi qua. Allora, mamma mia, non lo sopporto proprio questo brufoletto proprio qua, l'ho anche coperto, ma niente. Vi faccio vedere il mio outfit. Lupetto color carne, pantalone di pelle. Questo qua è un po' così, ovviamente devo cambiare le scarpe, metto le Nike. È largo tutto, ma è molto molto comodo. Ho fatto un trucco molto easy. Comunque andiamo perché io sto letteralmente morendo di fame. Fate al centro commerciale, borsa e si va. Andiamo a fare colazione. Ti vuoi far vedere? Buongiorno a tutti. A tutti. Aspettando la colazione abbiamo preso anche il nuovo brownie, che io volevo farvi un video a parte, così un mini video per farvi la recensione, ma poi non ho mai avuto tempo. E quindi lo proviamo. Ho fame, ragazzi. Sono le 11 e 10. Allora, voglio assaggiare il brownie con le noci pecan e il cocco. Vediamo. Non è male. È molto gommoso. E' buono. 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 Proviamo. Buono. Allora, rieccomi. Una clip dal futuro. Non ci fate caso dietro di me perché ci sono tutte le cose di Maggible. Comunque vi voglio far vedere lo shopping che abbiamo fatto. Non è stato tantissimo, però iniziamo. Anche se comunque nel camerino ho fatto pure i video, quindi poi ve li lascio. Allora, da Stradivarius. Ma come vi dissi, i saldi, sinceramente, niente di cheo. Abbiamo trovato da Stradivarius questo corpetto. Bellissimo in pelle. Mentre proprio quei corsetti, quei corpetti, bello. Con questo grigio, con una punta di verde, di grigio chiaro, grigio scuro. E' proprio fatto bene. Mucia la cerniera. Di questo, se riesco, vi metto una foto. E infatti sì, eccolo qui. Ma ricordava tantissimo. Abbiamo preso una M, costava 22,99 euro. E' pagato 9,99 euro. Mi è fatto veramente molto bene. Abbiamo preso anche, ovviamente, la gonna. Non vi nego che se c'era anche la borsa, la prendevamo. Ma non c'era. E poi anche la gonna. Dicei, un pochino una miniconna. Comunque, eccola. Qui ho preso la cerniera. Questa qui costava 30 euro. E l'abbiamo pagata 15,99 euro. Abbiamo preso una taglia 36, che sarebbe una 40 italiana. Bello, bello, bello. Poi, questa appena l'ho vista, stava 5,90 euro. C'era anche rosa e bianca. Ho detto, Giulia, rosa ce ne hai tantissime. Bianca. Prendi questo colore. E' proprio bello. Fatto proprio bene questo top. Proprio qualitativamente. Davanti a questo scollavi. Di questa la clip pure ce l'ho. Questa qui costava a prezzo pieno 10,99 euro. Quindi neanche tanto. Però io l'ho pagata 5,99 euro. Taglia S. A costine. Poi, invece, da Piazza Italia riesco sempre a scovare delle chicche. Devo dire la verità. Ho preso questo pantalone boyfriend. Bello. Mi ricorda questo personaggio, che ogni volta non mi ricordo mai il nome, ma vi lascio la foto. È molto a vita alta. Taglia 42, costava 20 euro. L'ho pagato 15 euro. Questo va anche a 10. Ma va bene. Non fa niente. L'ho preso lo stesso. Questa è la linea. Bello. È un bel verde. Mi mancava un pantalone del genere. Con i tascogli. È un po' simile a un modello che avevo di Bershka. Ma che comunque, mettendolo sempre, era con il grigio, perché era un modello skinny. Si è rovinato. Infatti, ho buttato nell'ultimo periodo tanti pantaloni. O tanti pantaloni che si stanno rompendo. Infatti, devo mettermi una giornata, un sabato o una domenica. Ma sicuramente questa settimana prossima. Perché questa settimana non ho tempo. Devo riordinare tutta l'armadio. Ma davvero tutta. Infatti, poi, sicuramente, qualche altra cosa andrà su Vinted. Quindi, seguiteci anche su Vinted. Divo, seguiteci perché è anche di mia sorella. E sotto è un po' più largo. Questo poi ve lo faccio in video indossato appena lo metto. Perché la clip l'ho fatta, ma non si vede tanto bene. Invece della maglietta, la clip ce l'ho. Cioè, vedete? Questo è il colore originale della maglietta. No, come la vedete nella clip. È proprio un... Vado in difficoltà con questo colore. È un petrolio? Sì, è un petrolio. Però non è un verde petrolio. Perché è una punta di... Di blu. Chiaro? Oddio, come si chiama questo colore? C'è un nome specifico, ma in questo momento non me lo ricordo perché sono un attimo le sei. 9 del mattino. Comunque è fatta bene. Io queste magliette le amo. Chi mi segue da tanto tempo lo sa che io ne ho tante, però con lo scollo AV. AV. Questa qui S è pagata 3 euro. Quindi, questo è stato il mio shopping. Vi lascio alle clip. In tutto ciò, io mi sono dimenticata di concludere il vlog. Me ne sono resa appunto a mezzanotte e ho detto Ma qualcosa non hai fatto? Perché poi sono ritornata a casa. Ho fatto un'ora di live con Maria. Per quanto riguarda me, io ho Maria e mia sorella. E quindi poi non ho fatto niente più. E quindi nulla. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi porterò tanti altri video. Non vi preoccupate. Ultimamente devo dire che i prodotti novità si sono un attimo fermati. E quindi nulla. Io adesso edito questo video e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao!